Allora ragazzi cosa dirvi? Vi invito a riflettere su quali sono le conseguenze di un messaggio, di un click, di un semplice click. Le conseguenze di un semplice click. Pubblico una diffamazione, pubblico una presa in giro, pubblico una foto, anche a volte solo leggermente compromettente di un mio compagno, di un conoscente, di una persona che magari disprezzo, va bene, e vi chiedo di riflettere su cosa comporta un click così. Comporta un effetto che non è più rimediabile perché una cosa che è entrata nel web può fare nel giro di un microsecondo il giro del mondo. Sono effetti che hanno davvero portata globale e pertanto va molto, molto meditato sul fatto cosa succede alle persone che vengono diffamate via web attraverso un semplice click. Sembra un gesto estremamente piccolo che però ha delle conseguenze importantissime. Quindi oggi vi invito ad immedesimarvi uno nell'altro.